Domenica 16 dicembre, presso la Sala dei Francesi del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, verrà presentato il libro di favole per bambini, Iris e l'Isola dei Sogni, proposta dal signor Alfredo Lobrutto, autore del libro, l'evento che gode del patrocinio del comune di Agropoli, persegue la promozione culturale della città e vuole far rivivere a grandi e piccini la magia del Natale, attraverso un'esperienza condivisa. Invece, il prossimo 5 gennaio 2019, presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli, verrà presentato, sempre con il patrocinio del comune, il libro dal titolo Francesco Ribelle. Si tratta della proposta dell'Associazione Spirito Francescano di Agropoli. Da alcuni anni ormai si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli. Così anche per il periodo natalizio è ormai tradizione realizzare una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati dal comune di Agropoli. E ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente del territorio, visto che il turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale, che con il suo indotto garantisce lo sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività ai servizi. Pertanto l'amministrazione comunale di Agropoli, retta dal sindaco Adamo Coppola, sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata, per accrescere la domanda e le ricadute economiche, attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro dissagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze dei servizi, un supporto alle azioni di incoming.